Intanto ringrazio Luigi Abate, eccola qua guardate che spettacolo, la faccio vedere, ma non tanto che è bella di suo perché è Lizzano Bianconera, ma perché nella mia vita non l'ha mai avuta. Rodete un po', dai ditemi che rodete un po'. E continuo il nostro appuntamento con Qui Studio, a voi Jay Stadium, verso la sfida contro l'Udinese. Io saluto Luigi Abate, collega di Della TV da Taranto, quindi la Puglia. La Puglia, rappresento qui anche lo Juventus Club Lizzano Bianconera e a questo proposito volevo estendere e formalizzare un invito insieme ad altri club pugliesi di Castellanetta e di Salice e Salentino. Stiamo costituendo, lunedì dovrebbe esserci l'imprimatur ufficiale, uno Juve Club che si chiamerà Fratelli Bianconeri. Il presidente onorario Antonio Marzo, il vicepresidente Ernesto Crocco, il delegato alle comunicazioni Cristian Marzo, il presidente Fabio Lamberti, il tesoriere Filippo Perrone. Faremo un vernissage ufficiale e come detto avremmo il piacere di avere una delegazione di Top Planet qui da noi al sud in Puglia. Tu saresti, caro, la madrina ideale. Quindi già ti precettiamo, tra virgolette, sapendo anche che apprezzi le specialità culinarie della nostra terra, un weekend sei nostra ospite. Come Marcello, abbiamo invitato anche il direttore Marcello e altri rappresentanti di Top Planet. Io intanto ti ringrazio per l'invito e qui oggi una bella lotta Puglia e Sicilia perché è rimasto con noi anche Giuseppe Gariffo da Palermo.